amici del vaso di pandora nuova seconda parte della nostra intervista con stefano orsi e giacomo gabellini ben ritrovati allora noi riprendiamo idealmente a dove ci eravamo lasciati ieri stavamo parlando della germania e il quotidiano di welt dichiara le relazioni tra francia e germania sono al loro punto più basso la germania viene definita in francia un cavaliere solitario un paese incamminato su un percorso di egoismo al quale non importa dei suoi partner e va ripetutamente da solo giacomo cosa cosa sta avvenendo è interessante che i francesi scoprono l'acqua calda insomma perché qualcosa di ovviamente una realtà arcinota che essenzialmente la germania ha usato l'unione europea come strumento per dare per mettere un uniforme diciamo continentale a quelle che alle proprie iniziative individuali e propri interessi esclusivi essenzialmente come abbiamo già detto per ampie volte il sistema dell'unione europea dell'eurozona in particolare permette alla germania di calmirare la moneta e di imprime a una spinta propulsiva clamorosa all'export combinandosi poi con il mercantilismo e con le politiche di compressione salariale e di deflazionistiche essenzialmente ha permesso come dicevo alla bilancia commerciale tedesca di macinare attivi su attivi da per 30 anni a questa parte il primo disavanzo si è raggiunto proprio in qualche mese fa interesse dopo 30 anni quindi qualcosa di non notevole e la germania è riuscita ad ottenere questi risultati piegando le strutture del comunitario ai propri interessi esclusivi attualmente la stessa scelta di staccare un assegno a 200 miliardi perché sostanzialmente sterilizzare l'incremento dei prezzi dell'energia o quantomeno mitigarne l'impatto è stata assunta in maniera indipendente senza consultare nessuno e senza cercare prima di dare una di trovare una soluzione a livello comunitario ma questo è la germania lo fa sempre io non so i francesi con quel trattato di acquis grana che fu siglato nel 2018 2019 mi sembra che sono sempre stati convinti di essere un partner alla pari ma non lo sono mai stati sì la francia si è riuscita su rettiziamente ad accreditarsi come vincitrice della seconda guerra mondiale ma in realtà era un paese sconfitto all'atto pratico ha mantenuto il seggio ha ottenuto il seggio al consiglio di sicurezza delle nazioni unite alla bomba atomica essenzialmente due diciamo due successi che sono completamente accreditabili la figura gigantesca di Charles de Gaulle ma per il resto rimane un vaso di coccio a fronte di un altro vaso di coccio perché anche la germania non è che definirla vaso di ferro mi pare eccessivo però sicuramente ha delle credenziali e della una solidità di gran lunga superiore per cui sì i rapporti sono i minimi ma io non riesco a capire cosa si aspettassero i tedeschi continuano a fare quello che hanno fatto da sempre per cui non c'è nulla di nuovo sotto il sole e che adesso si cerchi di redarguirli mi pare anche ipocrita e soprattutto fuori tempo massimo. quindi fuori tempo massimo. Stefano? Stefano Ursi. Sì, quello che riguarda la politica della Germania in questi anni credo che sia chiaro al momento alla Francia ben chiaro in quanto ha cercato una sponda di alleanza non con la Germania non quindi nel senso di rafforzare i suoi rapporti con Berlino ma con l'Italia cioè i cugini che hanno sempre guardato un po' di sbieco. Il patto del Quirinale quindi veniva a inserirsi in questo quadro e cioè quello di una Francia che si distanzia un po' dalla Germania e probabilmente perché conosce bene anche quelli che erano i disegni degli Stati Uniti per ridimensionare Berlino. Il problema è che poi è il destinatario di tutta questa guerra e riposizionamento degli interessi geopolitici. Quello che noi stiamo assistendo non è nient'altro che la prosecuzione della politica tedesca tenuta in tutti questi anni dall'unificazione monetaria in poi che ha imposto entro determinati parametri che andavano tutti a favore della sua economia, cioè l'unificazione dell'Unione Europea e le politiche monetarie sono sempre state calibrate sulla crescita economica tedesca e questo chiaramente per via delle differenze enormi che c'erano nelle impostazioni dell'industria e dell'economia degli altri paesi a danno degli altri. Quindi il gruppo dei paesi legati alla Germania cosiddetti paesi frugali e la Germania stessa si sono avvantaggiate di questo traendone enormi e smisurati profitti, con un disavanzo di bilancio annuo che rasentava i 300 miliardi. Questo ha portato loro negli anni a un accumulo di NIP enorme. Aggiungiamoci a questo il fatto che speculassero sulle difficoltà nei titoli di Stato degli altri paesi ed ecco il quadro che è completo. Ora noi assistiamo a un processo inverso, cioè al fatto che la Germania cerca di smarcarsi dalle politiche dell'Unione Europea che ora le sono contrarie, tra l'altro rinfacciano anche molto alla von der Leyen queste politiche, ma si sa, era un incapace prima come Ministro della Difesa, figurati adesso come Presidente della Commissione, e vanno avanti per la loro strada, nel senso che nel momento in cui le politiche dell'Europa sono vincolate al voto unanime e quindi sanno che hanno magari contrari i polacchi, hanno i polacchi tra l'altro che gli chiedono i danni di guerra dopo 70 anni, voglio dire, si sentono un po' tra l'incudine e il martello come dicevamo ieri e quindi loro vogliono trovare una loro via d'uscita e lo fanno con decisioni rapidi, in questo bisogna fare un plauso a Scholz perché non attende le lentezze dell'Unione burocratica europea, ma si muove autonomamente come deve fare tra l'altro un vero capo di Stato. L'Unione Europea è più lenta? Benissimo, fanno da soli, così agisce un cancelliere o dovrebbe agire un primo ministro, non come i nostri che attendono sempre le indicazioni da Bruxelles e via dicendo. Anche Parigi d'altronde non è secondo in questo, perché quando deve agire autonomamente nazionalizza e si muove senza troppi riguardi verso le indicazioni di Bruxelles. Gli unici che lo fanno sempre siamo stati noi e di fatti si vede, voglio dire. Ma d'altra parte noi partiamo dalla posizione che prima viene Bruxelles e dopo Roma, se Bruxelles è più lenta di Roma, pazienza, dovremmo adattarci ai tempi di Bruxelles. Temo che Roma non ci sia nemmeno. Invece la Germania, lo dice la Costituzione stessa, prima viene la Germania ovviamente, prima viene Berlino e poi viene Bruxelles, qualora non in contrasto con Berlino. Dicevi prima Giacomo Vasi di Coccio, riferendoti anche alla Germania, gli Stati Uniti stanno accelerando i piani di aggiornamento delle armi nucleari in Europa, la Germania ha tantissime basi NATO come l'Italia, in Italia vengono installate nuove testate nucleari. Qui proprio naturalmente il mainstream di questo non ne parla, però diciamo che è un evento sconsolante. Testimonia a cosa? Te la parola. Beh, erano l'aggiornamento, la rimozione delle B61 con le più moderne B61-12 che sono mini bombe atomiche, diciamo da teatro ristretto per così dire, cioè che avrebbero un impatto meno devastante rispetto a quelle convenzionali, sono già non convenzionali le armi nucleari, però rispetto a quelle comuni che siamo abituati a conoscere, per fare un esempio quella di Nagasaki era decine di volte più potente. Comunque si tratta pur sempre di bombe atomiche che vanno ad essere installate in un paese che aderisce al trattato di non proliferazione e sottoscrivendo il quale si era impegnato a non per l'appunto incentivare in alcuna forma la proliferazione, cosa che contempla ovviamente anche l'impegno a non schiararle sul proprio territorio, invece l'Italia sta facendo esattamente questo, si trince da dietro un'ipocrita diciamo formula secondo cui quelli sono territorio nato oppure ne sono basi statunitensi, quindi territorio statunitense, quindi noi non abbiamo giurisdizione, sono pure ipocrisia. In realtà l'Italia ci sono circa un centinaio di bombe atomiche, tragedie aviano, la cui presenza sul territorio nazionale rende l'Italia un obiettivo di primaria rilevanza per eventuali rappresaglio o attacchi da parte dei paesi ostili, perché nel momento in cui la Nato viene creata in funzione prima antisovietica e poi anche se non è mai stato detto era palese in funzione antirussa, chiaramente nel momento in cui le tensioni si acutizzano il teatro europeo ad essere geograficamente più vicino alla linea del fronte chiaramente, per cui questi obiettivi in territorio nazionale divengono legittimi e quindi mantenendo queste armi nucleari in Italia si rende il paese un facile bersaglio, un bersaglio prioritario da parte di un opotetico nemico e soprattutto queste decisioni sono assunte senza mai consultare le popolazioni e vengono imposte dall'alto, calate dall'alto, da quelli che sono evidentemente i veri padroni, senza nemmeno la parvenza di una consultazione con i destinatari di questi provvedimenti, per cui il Parlamento italiano e il Primo Ministro si limitano a prendere atto. È un cablogramma uscito sulla rivista Statuto di Tense Politico che ha dato la notizia dell'anticipo di questo schieramento dei missili, perché era previsto per la primavera e invece dovrebbe essere ultimato questo processo di spiegamento entro la fine dell'anno. Quindi lo sappiamo tramite un cablogramma che è arrivato a una rivista che ha numerosi agganci presso gli apparati di sicurezza statunitensi e questo la dice lunga su come siamo ridotti. Da un cablogramma veramente sconsolante, io mi aspetto che magari il governo e il Parlamento mandino, faccio un intervento di ringraziamento per questo upgrade, per questo aggiornamento delle armi a questo punto. Stefano, a te. Perché io in queste cose qui è meglio che sto zitto. Allora, l'arrivo delle B61-12 si inquadra nell'esistenza e nella tendenza degli Stati Uniti a posizionare al di fuori del loro territorio nazionale il loro armamento atomico. Ed è uno degli oggetti, delle condizioni per una pace stabile che la Russia aveva posto a dicembre, il 15 di dicembre, agli Stati Uniti per un accordo complessivo, una bozza di accordo complessivo per la pace in Europa e nel mondo. E cioè il rientro di tutte le armi nucleari sul territorio degli Stati che le possiedono. Perché la Russia le ha disponibili solo sul proprio territorio, non su Stati amici e via dicendo. Mentre gli Stati Uniti le hanno dispiegate sul territorio di paesi alleati o sudditi come la Nato. E infatti il rapporto di sudditanza si vede dal fatto che le muovono e le dispongono senza informare i governi o chiedere il parere di questi. E la cosa è molto scostante dal punto di vista del rispetto di quello che dovrebbe essere un paese partner e amico e invece si rivela essere sempre un suddito. Perché quando mai loro ci chiedono il parere su un'azione che vogliono intraprendere? Mai questo. Loro lo comunicano e questa è una cosa differente. E adesso noi stiamo vivendo questo. Noi abbiamo un bersaglio sulla testa che è dovuto al fatto che ci sono le basi con armi atomiche sul nostro territorio e questo fa di noi un bersaglio strategico per un eventuale colpo da parte delle forze strategiche nucleari russe. Non è una bella cosa. Non è una bella cosa chiaramente perché se non avessimo questo tipo di armamenti non lo saremmo. Sì. Questa è un po' la disamina sconsolante ma di cui dobbiamo prendere atto. Io, dunque, ne abbiamo accennato ieri, abbiamo toccato ieri l'argomento ma vorrei ritornarci oggi perché i russi hanno accusato appunto la Gran Bretagna di aver sabotato il Nord Stream. Stefano, a te la parola. Cosa cambia? Cosa può accadere? Come cambiano gli scenari con questa dichiarazione? Se i russi, calcolando la cautela che hanno nel muoversi, come tra l'altro i cinesi, se accusano la Gran Bretagna vuol dire che hanno prove propriamente inconfutabili? Le prove non sappiamo quali siano, abbiamo degli indizi indiretti sicuramente perché nella commissione di indagine che sta svolgendo il suo lavoro ci sono degli ostacoli e cioè la Svezia ha posto determinati segreti di Stato e bloccato accesso a alcune informazioni, negli altri diretti personalità convolte, cioè la Germania e la Danimarca. Questo è un segnale rivelatore che ci sono degli aspetti che per la sicurezza della Svezia che ha fatto domanda di ingresso nella Nato sono evidentemente vitali. L'altro aspetto è chi dispone di determinata tecnologia per compiere questo attentato. Sappiamo che sono andati delle apparecchiature subacque tedesche a controllare la tipologia di danno e quindi hanno acquisito determinate informazioni sul verso dell'esplosione, cioè se verso l'esterno o verso l'interno e questo ha dato sicuramente degli indizi, avranno raccolto anche dei reperti sul posto che avranno dato ulteriori indicazioni su chi sia stato. Se dobbiamo intendere che queste indicazioni sono arrivate al governo tedesco, lo spostamento verso la Cina e lo spostamento di un'industria dalla Gran Bretagna verso la Cina possono essere piuttosto eloquenti. L'accheraggio del telefono non so, bisognerebbe verificarlo, ma è sicuramente un aspetto non secondario perché non è la prima volta che questo accade. Ricordiamo che l'NSA aveva hackerato i telefoni e intercettato per anni i telefoni anche della Merkel e quindi è possibile che loro abbiano cercato di fare altrettanto agli alleati. Ormai possiamo scriverlo a un termine legato alla neolingua. Sì, gli alleati. Adesso noi abbiamo oltretutto un altro aspetto che crea un forte scontro tra la Russia e la Gran Bretagna perché abbiamo avuto l'attacco a Sebastopoli e anche lì ci sono ulteriori accuse dirette da parte russa alla Gran Bretagna. Sì, Giacomo, che scenari si possono aprire con queste accuse chiare, proprio dirette della Russia e la Gran Bretagna? La Gran Bretagna stia giocando con il fuoco, è una cosa piuttosto nota dai tempi di Boris Johnson che cercano di spingere l'Ucraina su posizioni addirittura più eltranziste rispetto a quelle su cui si collocavano gli Stati Uniti. Quindi è un punto piuttosto evidente. Il fatto che i russi si spongano in maniera così pubblicamente, dichiarino di aver raccolto prove attestanti, a loro dire, un coinvolgimento attivo e pesante dei britannici indica che probabilmente qualcosa c'è. Poi si vedrà se queste prove reggono, ma comunque il problema, il punto strategico riguarda la tentativa da parte della Gran Bretagna di fare quello che ha sempre fatto, cioè cercare di creare caos, seminare zizzani, a alimentare tensioni in seno al continente. Cioè mentre loro si rifugiano il loro insularismo, cercando specialmente in seguito alla Brexit, di riposizionarsi, sceldando i rapporti con la cosiddetta anglosfera, cercano di indebolire l'Europa continentale, essenzialmente giocando sulla divide timpera, cercando di mettere Francia, Germania e Russia, gli uni contro gli altri. Fanno questo da decenni e da secoli, direi, e quindi da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Il problema è che un paese che economicamente è messo malissimo, malissimo, perché è un paese con un disavanzo commerciale strutturale, deindustrializzato dalla fine degli anni 70, essenzialmente, con una posizione finanziaria netta che è di circa 1000 miliardi di dollari negativa, e che quindi campa importando capitali dall'estero, quindi la centralità della City, la disponibilità del resto del mondo, la fiducia che il resto del mondo ripone nella sterlina e nella serietà della finanza britannica. Il problema è che questa serietà e questa credibilità è stata intaccata in maniera irrimediabile, e io me ne accorsi subito, mi ricordo che nel momento in cui vennero imposte le sanzioni, quando vennero imposte delle sanzioni incredibili alla Russia, sia quella relativa al congelamento delle riserve della Banca Centrale Russa depositate presso altri istituti, sia l'erogazione di sanzioni contro determinati cittadini, individui russi, giudicati, non meglio specificatamente, vicini al Cremlino, cioè che è una cosa assurda, si prende un singolo cittadino russo e gli si toglie, viene spogliato dai suoi averi, gli vengono confiscati i suoi averi senza un quadro giuridico di riferimento che lo giustifichi. Questo chiaramente tutto il mondo ha mangiato la foglia, ha capito l'antifona e probabilmente ha agito di conseguenza. Quindi i russi, i cinesi, i sauditi, e il Colombia Saudita giocherà un ruolo sempre più importante secondo me in questo ambito, hanno cominciato a ritirare soldi, capitali da Londra e quindi questo deflusso di capitali che la Gran Bretagna ha cercato di compensare prima, innalzando i tassi di interesse, anzi prima con una misura fiscale di stampo taceriano, quindi un taglio delle tasse ai grandi patrimoni essenzialmente, che poi è stato avuto l'effetto opposto rispetto a quello sperato da Londra, poi con un rialzo dei tassi che però è ingestibile, perché chiaramente soffoca l'economia reale e porta alla chiusura di decine di attività. Quindi è un paese che si ritrova sull'astrico, essenzialmente, che vede la cui ancora salvezza è data dal tentativo di far pagare essenzialmente alla Russia, attraverso una sconfitta strategica da rifilare al Cremlino, i costi di una struttura economica così malmessa e mal congegnata come quella britannica. Credo che sia un giocare col fuoco che può risultare molto pericoloso. Sì, molto pericoloso, perché anche la settimana scorsa, lo ricordiamo nell'appuntamento di lunedì scorso, hai prospettato un futuro dell'Inghilterra molto buio, anche peggio dell'Italia e forse anche della Germania, quindi è veramente a tinte fosche e anche oggi, quindi aggiungendo ulteriori elementi all'intervista della scorsa settimana, ne hai spiegato il perché. Senti Giacomo, vorrei rimanere con te, poi sentiamo ovviamente Stefano, perché un'altra notizia sicuramente degna di attenzione viene dagli Stati Uniti, dove le riserve strategiche di petrolio sono al livello più basso dal 1984, l'indicatore è l'SPR, lo Strategic Petroleum Reserve. Certo, il problema è che nel tentativo di calmerare il prezzo dell'energia del petrolio essenzialmente, gli Stati Uniti hanno rimesso sul mercato grosse quantità delle proprie riserve strategiche, che sono così diminuite fino a raggiungere questo picco basso, è una cosa molto preoccupante, non tanto del fatto in sé, perché alla fine gli Stati Uniti sono un produttore dell'energia netto, tramite il fracking riescono a rimpinguare probabilmente, che vi riusciranno, anche se non c'è molta chiarezza sui tempi, entro cui riusciranno a riportare le riserve strategiche a livelli accettabili. Il punto è che questo dato segnala una crescente incapacità degli Stati Uniti di manipolare il resto del mondo in funzione dei propri interessi. Cioè il fatto di dover rimettere le riserve strategiche indica che tu non puoi più manipolare, non puoi più agire, più condizionare a tuo piacimento le mosse dell'OPEC. Perché se l'Arabia Saudita non risponde più alle direttive statunitense che nella fattispecie puntavano a ottenere un aumento della produzione petrolifera e invece vanno addirittura a convergere con le richieste del Cremlino, cioè con la Russia, con l'OPEC Plus, e l'Arabia Saudita sono sostanzialmente due paesi che hanno raggiunto un accordo in merito al taglio della produzione, e quindi un tentativo di sospingere verso l'alto la quotazione del greggio segna che è una prova inequivocabile del fatto che l'influenza statunitense sta ecclissandosi sostanzialmente. E sono anche un po' maldestri i tentativi, e fanno anche un po' sorridere, questi tentativi di riallacciare i rapporti con il Venezuela di Maduro. Dopo che è stato trattato come un terrorista, un governo criminale, adesso nel momento in cui si cerca, alla luce dell'incapacità di ottenere il risultato voluto dalla Arabia Saudita, si cerca di ripiegare ad Ulanda e Venezuela. Il problema è che Venezuela è un alleato di ferro della Russia e non sembra affatto disposto a piegarsi a queste lusinghe, anche perché probabilmente gli Stati Uniti non hanno esattamente una tradizione di fedeltà. Basti pensare al trattamento che hanno riservato i kurdi, al governo afgano che se ne sono andati dall'Afghanistan lasciando le chiavi sul quadro dei mezzi anvi lasciati sul territorio senza consultare nessuno. Quindi mi pare che si assista a un deterioramento molto rapido della capacità degli Stati Uniti di indirizzare le scelte strategiche dei paesi che ritenevano vassalli e che vassalli tendono a non essere più. L'Arabia Saudita era un pilastro del petrodollaro, crollato questo pilastro si aprono scenari letteralmente inconcepibili solo fino a qualche anno fa. Assolutamente, poi l'Arabia Saudita in procinto probabilmente di entrare addirittura nei BRICS, quindi vedremo perché la situazione è veramente epocale. Stefano Orsi, su tutto questo poi lo do eventualmente se vuoi cogliere come spunto, adesso c'è il convitato di pietra almeno fino al 8 di novembre che sono le elezioni di mid term. Il tentativo da parte americana di usare le riserve per mutare l'andamento dei prezzi del petrolio nel mondo è destinato a fallire perché non hanno la capacità di sostenerlo a lungo e le stanno letteralmente dilapidando. Perché volevano contenere il prezzo? Non solo per l'aspetto dell'inflazione interna che ha visto aumentare i prezzi della benzina e che l'amministrazione in maniera piuttosto ridicola chiama la Putin tax, che però non accontenta gli elettori americani e non giustifica sicuramente ai loro occhi questo aumento, loro cercano di contenere i guadagni della Russia, perché di fatto la Russia grazie all'aumento dei prezzi, al fatto che molti si siano rivolti a loro perché privati delle risorse a causa dell'incetta di prodotti petroliferi e gas da parte dell'Europa ad esempio, che ha privato molti paesi dei produttori, dei fornitori tradizionali alternativi alla Russia, si sono rivolti alla Russia per sostituire questi arrivi e quindi la Russia ha aumentato molto le esportazioni verso paesi come l'India, la Cina o altri produttori che prima si rivolgevano ad altri produttori. Ecco che grazie ai prezzi elevati del petrolio la Russia ha fatto il pieno di entrate aumentando moltissimo il NIP positivo, in pratica la sua bilancia commerciale è inattivo per centinaia di miliardi, già adesso non siamo neanche ancora a fine anno e questo per gli Stati Uniti è un problema perché chiaramente annulla tutto l'eventuale effetto delle sanzioni finora fatto, che a tutti gli effetti si sono ritorte contro in grossa parte all'Europa e in minor parte ma pesante anche contro gli Stati Uniti. Quindi hanno deciso di buttare sul mercato le loro riserve e hanno cercato di fare pressioni, come giustamente ricordava Giacomo, sui paesi dell'OPEC+. La risposta saudita, ma che era già stata, se vi ricordate, in occasioni precedenti anticipata da Bin Salman che aveva dato vita poi tra l'altro a un capannello tra Biden, Macron e altri che dicevano ma i sauditi non vogliono aumentare le quote, erano leggermente preoccupati. Ecco, loro avevano detto ma sì, l'aumenteremo di 100.000 barili entro un mese, due mesi, e poi invece hanno detto non aumentiamo per niente la quota, anzi tagliamo la produzione. Questa scelta da parte saudita che va tutta negli interessi dei sauditi perché tendono a mantenere il prezzo il più elevato possibile è stata definita un'azione ostile da parte degli Stati Uniti. Un atto ostile quindi è una definizione grave dal punto di vista delle politiche estera americana perché è l'anticipazione di eventuali misure di ritorsione da parte degli Stati Uniti contro il governo saudita. Ivi compreso l'eventuale cambio di regime nell'Arabia Saudita. Non tengono forse presente o hanno la memoria corta per quanto riguarda cosa è accaduto negli anni scorsi in Arabia Saudita quando il Mohammed bin Salman ha fatto piazza pulita degli eventuali pretendenti alla successione dell'attuale re e di fatto si è garantito il posto di successore unico e quindi molto difficilmente potranno trovare una sponda per cambiare il governo in questo paese. D'altronde si è anche fatto nominare primo ministro e quindi ha tutto il potere in mano. Assolutamente, potere completo in mano. Per l'ultima parte della nostra intervista andiamo in Medio Oriente in particolare in Pakistan e in Iran perché Giacomo la situazione in Pakistan è molto pericolosa. Il paese che lo ricordiamo è dotato di testate nucleari è sull'orlo di una guerra civile. Sì, i segnali ci sono tutti perché il ex premier Ibran Khan un ex professore universitario dotato di amplissimo seguito in Pakistan ha recentemente annunciato l'intenzione di organizzare una marcia su Islamabad per cercare di rovesciare quello che lui percepisce come un chiaro sopruso ai suoi danni cioè il pronunciamento verso cui la corte elettorale lo ha dichiarato ineleggibile per i prossimi cinque anni. È un tentativo essenzialmente che lui legge come un tentativo di ostacolare l'ascita del potere di un personaggio politico non considerato controllabile dagli apparati dallo cosiddetto Stato profondo pakistano che essenzialmente è dato dall'esercito dei servizi di sicurezza soprattutto il famoso ISI. I servizi segreti pakistani sono un apparato onnipotente all'interno del paese e che ha storicamente dei legami strettissimi con l'Arabia Saudita ma soprattutto con Washington con gli Stati Uniti. Fin dall'epoca della guerra contro dell'invasione sovietica dell'Afghanistan ci furono dei rapporti maturano delle relazioni incredibilmente strette tra le parti che vengono fatte valere anche oggi. A Imran Khan è stato rimproverato da questi settori l'aver condotto una politica estera molto indipendente per i standard pakistani che prevedeva per esempio che aveva indirizzato il Pakistan verso un rapporto di quasi di allianza strategica con la Repubblica Popolare Cinese essenzialmente. Ricordo che un ramo prioritario della via della seta è il corridoio pakistano KPEC che porterà indirizzerà queste vie di comunicazione verso il rapporto pakistano di Karachi che è una perla fondamentale della via della seta marittima cinese. quindi diciamo che nel corso degli anni si è assistito a uno slittamento del Pakistan di fuori dell'orbita statunitense e verso quella cinese e specialmente con lo scoppio della crisi ucraina quando gli Stati Uniti hanno cercato di risolvare i ranghi all'interno della propria alleanza si è resi conto di avere questo paese che era sempre meno controllabile e una delle manovre è stata quella di estromettere questo primo ministro è stato il primo caso di estromissione di un primo ministro pakistano da parte del Parlamento è stato sfiduciato per aver sostanzialmente criticato per aver denunciato il fatto che un sostretto collaboratore era stato trattenuto dalle forze di polizia e torturato l'hanno giudicato come un atto di stigazione del terrorismo sfiducia nella magistratura nelle forze di polizia eccetera e quindi l'hanno costretto sostanzialmente alle dimissioni e adesso cercano di sbararvi la strada verso la presidenza attraverso un lennesimo pronunciamento capestro essenzialmente il problema è che in questi mesi Imran Khan ha girato tutto il Pakistan e ci sono dei video impressionanti in cui si vedono milioni e milioni di pakistani assistere ai suoi discorsi e quindi ha un seguito incontestabile lo riconoscono tutti sia all'interno del Pakistan che fuori anche i giornali diciamo di opposizione rispetto alla sua figura quindi si profila il rischio concreto di un diciamo di una se non di una guerra civile quantomeno di uno scontro di scontri di piazza molto aspri tra i sostenitori di Imran Khan e gli apparati di sicurezza pakistani che potrebbe facilmente degenerare perché è un paese molto turbolento si è abituato nel corso degli anni a attentati con vari disordini di vario genere che può portare la situazione a degenerare come giustamente menzionavi il fatto che è un paese dotato di circa 100-150 testate atomiche che nutre con la vicina India un'ostilità diciamo viscerale che sono in guerra essenzialmente dal 1962 in realtà anche prima dal momento in cui il Pakistan si è separato dall'India dal 48 il problema è che questo paese rischia di sprofondare nella guerra civile e di trasformarsi in un buco nero pericolosissimo nel cuore dell'Asia quindi è un problema per la stabilità dell'Asia e anche di più ampio direi di caratura mondiale questo problema potrebbe trasformarsi Stefano un potenziale nuovo focolaio dopo l'Ucraina Taiwan un'altra zona pericolosa sì è una questione di equilibri di poteri interni al Pakistan il Pakistan ancora adesso con il governo attuale sta tenendo i piedi in due scarpe nel senso che da un lato prosegue nel suo processo di unificazione con i rapporti con i paesi dell'Eurasia ci sono programmi di creazione di dorsali per il trasporto dell'energia attraverso anche il Pakistan dall'Iran verso l'India e dalla Russia verso l'India appunto anche il Pakistan e come ricordava giustamente Giacomo anche per la Belt and Road ora abbiamo invece un problema e dall'altro canto però teniamo presente che è l'unico paese di questa cerchia di questa zona del mondo che fornisce armi all'Ucraina perché fornisce i proiettili in calibro 122 e quindi tiene i piedi un po' in due scarpe la figura di Ibram Khan è sicuramente un punto interrogativo nel senso che noi dobbiamo poi alla fine capire bene come si collocherebbe una volta acquisito il potere il Pakistan ha un apparato che sicuramente non è tenero nei confronti di chi non può controllare perché l'indicazione della politica è sempre stata in mano a militari e servizi segreti come giustamente ha ricordato Giacomo però sicuramente il seguito che ha nel paese questo personaggio è enorme è veramente enorme ci auguriamo che non si debba arrivare a un conflitto perché in un paese così popoloso e anche così incline alla violenza ricordiamo che molti dei terroristi che avevano fornito mano d'opera all'ISIS arrivavano dal Pakistan anche quindi dove tra l'altro aveva le sue basi e questo non è secondario e poi è un paese dotato di armi atomiche quindi vedere un paese come questo in guerra interna diventa allora un problema di sicurezza mondiale perché di testate ne ha può diventare un problema di sicurezza mondiale anche questo è un'area e un paese che terremo sicuramente monitorato le prossime settimane i prossimi mesi Giacomo un attentato in Iran con 40 morti accertati cosa sta avvenendo in Iran in Iran è successo quello che purtroppo succede ogni tanto in quel paese cioè che ci sono delle frange terroristiche che cercano essenzialmente di destabilizzare il paese e a livello strategico cercano di allentare la presa degli Ayatollah sull'Iran sulla Persia il punto è che questi attentati hanno avuto l'effetto prevedibile di ricementare il paese attorno alla sua leadership almeno buona parte del paese in una fase delicatissima che vedeva contrassegnata da forti disordini in molte città iraniane che erano stati ripresi chiaramente da tutti i medi occidentali e diciamo con la solita prontezza hanno il solito semplicismo hanno ridotto il tutto a una politica pro controvilo dove si tratta di un paese molto complesso che è attraversato da un processo di modernizzazione che deve comunque incastonarsi in una in una realtà molto sociale molto di tipo tradizionalista perché chiaramente come dicevo prima la presa degli ayatollah sul paese rimane sostanzialmente integra ma comunque ha come tutti i paesi delle linee di faglia interne ci sono delle borghesia una borghesia che chiaramente guarda più con diciamo con sfavore a questa tendenza tradizionale questo al tradizionalismo che anima invece le parti diciamo più povere del paese fondamentalmente sono diciamo dinamiche che si riscontrano un po' ovunque in giro nel mondo è un paese come dicevo in trasformazione che viene descritto come estremamente retrogrado ma invece ha delle caratteristiche che proprio da paese retrogrado non sono assolutamente basti pensare che ha il numero di studentesse di studenti universitari a cui maggioranza sono donne il fatto che ha nonostante sia sottoposto a embargo sanzioni di ogni tipo è uscito a sviluppare una tecnologia per quanto riguarda per esempio i droni di primissimo piano e quindi e lo riconoscono tutti adesso con sorpresa perché come evidentemente mal si concilia questa capacità conclamata con il fatto di presentarli con essenzialmente dei poveracci illetterati è un paese che ha delle sue caratteristiche e che comunque si trova ad affrontare delle sfide molto molto importanti sul suo cammino che si cerca specialmente in una fase come adesso di trasformarlo in un ennesimo anello della catena di contenimento della Russia del cuore della terra diciamo in cui gli Stati Uniti si cimentano da ormai svariati decenni da quando c'è stata la rivoluzione islamica del 79 gli Stati Uniti hanno cercato di rovesciare come Inni i suoi successori per trasformare l'Iran in uno stato vassallo fino adesso non ci sono riusciti e dubito che alla luce vista la capacità del paese di resistere vi riusciranno negli anni a venire probabilmente non riusciranno appunto negli anni a venire dicevi un paese dipinto come retrogrado ma questa ovviamente è l'analisi nella narrativa occidentale salvo poi scoprire che appunto fanno droni eccetera e quindi improvvisamente si cade dal pero perché dice ma come un paese retrogrado che è in grado di fare queste cose ecco questo giusto perché il mainstream occidentale ci porta fuori strada affidandosi alle analisi appunto della narrativa occidentale Stefano Stefano Orsi a te sì noi abbiamo visto lo scatenarsi di una serie di manifestazioni in alcune zone del paese manifestazioni che hanno avuto una grande enfasi nella stampa occidentale ma che all'interno dell'Iran sono assolutamente minoritarie e legate ad alcune frange della popolazione non di sicuro alla maggioranza degli iraniani nonostante quello che dicono i media di fatto grazie a questo sono anche ben contenute da parte delle forze dell'ordine non è stato dato come qualcuno ha scritto l'ordine di sparare a vista sui manifestanti nella maniera più assoluta ma ci sono delle frange violente che vengono contenute come del resto lo sarebbero qua ecco se sparano o cercano di ammazzare i poliziotti anche i nostri sparerebbero come ad altronde se ci ricordiamo a Genova è successo per quanto riguarda quindi queste manifestazioni sono nate da una diciamo fatto occasionale cioè la morte di una ragazza mentre era all'interno di un commissariato che i nostri media hanno descritto come torturata picchiata non risulta almeno dai video in quanto sembra che da quelli che sono stati diffusi i soccorsi siano stati immediati e abbiano immediatamente chiamato l'ambulanza e l'ospedale per soccorrere la ragazza quando era all'interno del commissariato è arrivata viva tra l'altro infatti in ospedale e poi è deceduta a causa dei danni subiti dall'arresto cardiaco nei giorni successivi ma hanno fatto il possibile per salvarla ecco da qui arrivare a dire che era stata torturata che era stata arrestata tra l'altro per la questione dei capelli io vorrei porre l'accento su un fatto che chi non ha mai visto foto delle donne in giro per Teheran non può capire che in realtà il lo shador che viene indossato lascia scoperti in gran parte i capelli perché perché è d'uso nelle donne iraniane portarlo in questo modo non portano il burka come in Afghanistan quando c'era la Nato oltretutto che poi se ne sono dimenticati tutti ma tolta qualche quartiere di Kabul il resto del paese era esattamente come quando c'erano i talebani da soli al governo e come è tornato adesso d'altronde l'Iran come giustamente ha ricordato l'Iran degli Ayatollah come ha ricordato Giacomo è il paese che ha portato all'università le donne che hanno ruoli e svolgono attività di tutto rispetto e di grande professionalità nel paese da ricercatrici a scienziati appunto che scoprono e fanno scoperte studi avanzati nel campo della medicina o della tecnologia hanno un'industria missilistica e spaziale in stato avanzato di progresso che si sono tra l'altro creati da soli con lo studio e la tecnologia sviluppata in proprio hanno sviluppato la produzione industriale sofisticata dalle turbine all'industria aeronautica anche questa tutta fatta in proprio a causa delle sanzioni dell'embargo imposto dal 1980 al paese dagli Stati Uniti dai paesi occidentali e questo li ha privati di enormi mercati e di enormi disponibilità ciò nonostante loro se la sono cavate e hanno fatto tutto in proprio ora non è un caso se queste manifestazioni e questi scontri sono iniziati proprio quando l'Iran ha iniziato a fornire tecnologia militare che mancava in quel settore alla Russia ma non che mancasse perché erano in ritardo non ci hanno creduto fino a pochi anni fa ma ci vuole una serie di anni di sviluppo per creare una tecnologia affidabile in guerra per questa tipologia di armi l'Iran ci lavora da 12 anni e ha sviluppato già questa tecnologia e quindi l'ha fornita alla Russia tra l'altro vanno a 2500 km i droni iraniani non a caso perché è la distanza che intercorre con Israele grosso modo e quindi diciamo che servono anche alla bisogna e sono affidabili anche per questo motivo e non è un caso se è arrivato quest'attentato dell'Isis contro Shiraz che ha ucciso una quarantina di persone ho visto il funerale di queste vittime del terrorismo con centinaia di migliaia di persone che manifestavano il loro appoggio al governo contro il terrorismo questo attentato non avviene per caso e non è per caso a mano dell'Isis perché l'Isis abbiamo già visto durante la guerra in Siria che agiva in maniera strana agiva contro gli interessi dell'Isis e sembrava favorire gli interessi degli Stati Uniti guarda caso e guarda caso usava armi di provenienza americana casualmente il caso vuole che abbiano attaccato proprio adesso anche l'Iran che fornisce le armi alla Russia sinceramente io a questi strani casi che si ripetono di continuo tra gli avversari degli Stati Uniti non ci credo molto sì perfetto anche questo intervento sull'Iran che così abbiamo fatto una panoramica molto interessante anche su questo paese e noi siamo in chiusura quindi io sono i ringraziamenti per Giacomo Gabellini grazie Giacomo non avevamo notizie particolari questa settimana su Taiwan ma sicuramente non passerà molto tempo che le avremo così avremo modo anche di parlare del tuo ultimo libro Taiwan l'isola l'isola ribelle e grazie a Stefano Orsi e io consiglio a tutti l'iscrizione al suo canale grazie grazie Stefano grazie a voi e grazie a tutti voi per l'ascolto grazie a tutti